...e Matteo Sarameni. Adesso dobbiamo cercare di arrivare al microfono. Andiamo a cercare altre testimonianze con Massimo Postiglione mentre continuiamo a rivedere quel momento e rivediamo allora con l'occasione il prima e il dopo perché naturalmente dobbiamo tornare per apprezzare quello che è stato a quello che era il Moncone del Ponte Morandi, come era fino alle 9.36 e poi per l'appunto quello che è successo per arrivare a questa situazione qui. Questo è il nuovo skyline di Genova, di questa zona. Massimo, con chi sei?